Il Museo Etnografico e Naturalistico della Valsanagra, inaugurato nel 2005, è stato formalmente istituito nel 2001 per volontà dell'ex sindaco Natale Butti. L'idea di Butti era già in germe nel lontano 1986, anno in cui il Consiglio Comunale di Grandola delibera l'acquisto di Villa Camozzi, attuale sede del municipio e del museo, prevedendone l'utilizzo come centro convegni, museo e centro culturale. In seguito a questi eventi viene istituita l'associazione volontaristica Storia, Natura e Vita, alla quale l'amministrazione di Grandola demanda la pianificazione e la realizzazione del museo. Questo ideale, rimasto immutato per quasi vent'anni e portato avanti dal nuovo sindaco Giancarlo Zanfanti, ha coadiuvato la nascita del museo, mantenendo inalterata la volontà di creare una memoria storica naturale delle passate civiltà e soprattutto di un centro didattico che funga da riferimento al parco locale, di interesse sovracomunale in Valsanagra. Queste direttive hanno avuto profonde influenze nella pianificazione e nello sviluppo del museo. L'associazione ha infatti cercato diverse strategie per legare intimamente il museo al parco al fine di strutturare tra queste due realtà un continuo dialogo, il museo che guida il visitatore al parco e al contrario il parco che indirizza il visitatore al museo. Il logo scelto per il museo è la rappresentazione del Rogolone, la celebre e maestosa quercia dichiarata monumento nazionale e una delle più grosse dell'Europa settentrionale.